Al di là di quanto sta avvenendo il dibattito che ci allarsa e soprattutto nell'attesa del ricorso alla TAR fatto da ex consiglieri comunali, c'è una scappatoia, c'è una norma che può far riabilitare il Consiglio Comunale? La regione siciliana il 15 marzo del 1963 ha varato la legge 16, la quale legge 16 all'articolo 1 stabilisce che una cosa è il bilancio consuntivo, un'altra cosa è il bilancio di previsione. Di conseguenza non avendo mai la legge 16 recepita la norma nazionale, perché la norma nazionale è successiva alla legge 16, quindi l'Orel stabilisce appunto che la regione siciliana nell'ambito della propria specificità e della propria univocità non unifoga bilancio consuntivo con bilancio preventivo. Di conseguenza illegittimamente, e torno a dire illegittimamente, l'assessorato regionale e agli enti locali ha sciolto il Consiglio Comunale di Siracusa. Ecco, ma al di là del fatto che un politico potrebbe anche non sapere o distrarsi per questa norma, ma ci sono gli uffici che dovrebbero correggere il tiro, perché non l'hanno fatto secondo me? Ma vedi, gli uffici in questa vicenda sono stati tratti in inganno dalla politica, perché all'indomani della bocciatura del bilancio consuntivo i funzionari si sono resti convinti che si poteva sciogliere il Consiglio Comunale. La verità è che quando noi abbiamo fatto presente all'assessore, che peraltro era di Forza Italia, e che peraltro era un deputato, e peraltro un ex sindaco, e peraltro una di quella però che aveva ispirato questa legge, per essere chiaro che non potevano i suoi uffici sciogliere il Consiglio Comunale, la cosa non è accaduta.